Il record pare possa essere battuto, è questa la notizia d'attualità. Gruppa Matri ci sta provando. Attenzione, missione impossibile non è, ma la stanchezza è tanta. Alle ore 6, Gruppa Matri era già a meno di 1300 miglia da Pontapitre, stando attento al meteo e raggirando la depressione tropicale che ha investito il nord dell'Azzurra. Suspense, Suspense. Il prodotto della depressione del nord, altamente in atto, è statico e se dovesse scendere si allineerebbe con gli alisei dove adesso navigano i classe IMOCA. Grande attenzione a bordo di Sodebo. Marcoville ha trovato un buon flusso e ha rubato qualche miglia a Gruppa Matri che si avvicina all'Equatore. Ascoltiamolo. Il periodo è in grado, si può arrivare in grado, 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 in grado. Grande sforzo quindi a bordo di Sodebo. Ascoltiamo adesso i classe IMOCA nell'Atlantico. Ascoltiamo l'Atlantico. Allora, come si vediamo la scuola. BRB a 20 metri in grado. Allora, questa dovrebbe essere il cinque o sei giorni di corrida. Allora, passiamo il fronte freddo. e ora bisogna allumare ora siamo all'interno, all'interno quasi in route directa verso le Antilles con un vento molto forte e soprattutto un po' di mer che fa delle figure di stile improbable voilà, voilà al passaggio del front, già la mercoledì la depresione ha assunto una forma piramidale non ha perso la sua forza notte buia e nera, shock su Safran la barca si impenna, poi si correga sul lato e poi si raddrizza nella classe 40, certamente non meno importante potremmo avere un'idea più chiara tra domenica e lunedì nella classe multi 50 attual insegue Crepo A nell'Atlantico grazie a tutti